Dopo il Covid, una nuova botta per il turismo italiano. La mancanza dei cittadini russi provocherà, secondo le stime, un enorme danno economico nel nostro paese. Negli ultimi anni i cittadini provenienti dalla Russia hanno scelto molte mete nel nostro territorio. Mare, montagna, città d'arte, c'è chi ha comprato residenze milionarie, quelle che in questi giorni vengono requisite, ma c'era anche chi arrivava per una vacanza estiva da trascorrere in albergo. Il turista russo, come tipologia di persona, negli ultimi anni ha rappresentato il cliente eccellente, disposto a godere di buoni servizi e pagarli senza difficoltà. Questa mancanza spaventa molto il settore, dopo due anni dai quali ancora si fatica a riemergere.